appaggia, appaggia piatti ricchi adesso? guarda, manda ragaziella che grande nemmeno meccano tacca no, no, non la mettono in braccio dai, metti da giù perché? tacca non ti metto a mangiare hai i consigli di guardare ecco il lato ah, poca soddisfazione, tecati va bene? via! grazie grazie va via è un po' stress non è un po' stress prova a stai chiamando un po' se ti gano ti chiamano dei stressini dove ti dico io ah adesso che hai chiamato adesso a te ho capito a te me lo bagli da tutti o ti è Dio? canagna, canagna, canagna manzalo faticere, uccidelo mangelo